Pochissimi giorni ancora la decima edizione della festa della trebbiatura e del pane organizzata dall'associazione Assocar retta da Giovanna Prusapio in collaborazione con il comune di Aquara e con la banca di credito cooperativo di Aquara. Noi siamo proprio in compagnia di Giovanna Prusapio, manca veramente poco. Sì, in effetti siamo agli ultimi preparativi per quanto riguarda la decima edizione della festa della trebbiatura e del pane. Quest'anno ci vede protagonisti nuovamente sul territorio di Mainardi dove l'anno scorso è stato veramente un grandissimo successo e quest'anno speriamo di replicare con gli stessi numeri. E come da tradizione la festa della trebbiatura e del pane si aprirà con una sfilata di mezzi agricoli? Sì, in effetti la parte iniziale è standardizzata nel senso che a noi piace iniziare con questa sfilata di mezzi d'epoca che aprono la manifestazione, quindi si accingono ad arrivare e ad aprire proprio le porte della manifestazione e dopo la sfilata ovviamente si dispongono in esposizione. Quindi si avvierà quella che è la benedizione poi della trebbia che sta in funzione per far vedere anche quello che è il funzionamento della trebbia di un tempo. Tanti prodotti tipici da degustare e tanto intrattenimento? Sì, in effetti quello che a noi preme è quello di valorizzare il territorio e le tradizioni. Tutto quello che verrà anche degustato sarà cucinato nel modo in cui veniva fatto nelle antichità. Dicevamo l'offerta artistica è davvero importante? Sì, quest'anno a parte i gruppi che noi consideriamo del nostro team, quindi la Luna Piena, Quintessenza, MGM 101, Tonino Battagliese e i Cugini del Liscio, avremo anche due artisti un pochino più importanti, tra cui l'orchestra Casa Dei e Gigione Gio Donatello e Mena It. Ricordiamo le date di questo evento ai nostri telespettatori? Sì, la festa inizierà il 20, si produrrà fino al 25 di luglio. Professore Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania, nonché vice sindaco di Aquara, ritorna alla festa della trebbiatura e del pane in località Mainardi di Aquara, che si aprirà con tanti interessantissimi convegni che faranno luce sulle realtà territoriali. Sì, credo che proprio nella serata inaugurale di questa ormai decima edizione di questa festa, che è diventata una festa di territorio, non è una manifestazione che riguarda solo il territorio di Aquara, ma l'intera area della Valle del Calore, che si ritrova ogni anno attorno a questa manifestazione importante che è la trebbiatura, questo appuntamento dell'agricoltura importante, ma che si ritrova attorno al pane, che è la vita dei contadini. Attorno a questa manifestazione partono le prime riflessioni che riguardano le aree interne, le realtà montane e soprattutto la strategia delle aree interne, questo progetto che anche Aquara, insieme a Roccadaspide, ma buona parte del Cilento, diciamo sta cercando di metterlo in movimento. Una strategia importante che vede al centro appunto agricoltura, tipicità, turismo e infrastrutture. Infrastrutture viarie, alle mie spalle si intravede in qualche modo la realizzazione della Fondovalle Calore, che è indubbiamente un volano di sviluppo importante per questo territorio, che entra a pieno titolo in questo ragionamento legato alla strategia territoriale dell'area della Valle del Calore, degli Alburni e del Cilento.